Ciao, mi chiamo Vanessa Gentile, ho 20 anni, sono nata a Frosinone e vivo ancora lì. In un futuro vorrei spostarmi in un'altra città, però non ambito italiano. Mi piacerebbe molto andarmene in America, perché ovviamente essendo ballerina e essendo ballerina di hip hop, in America c'è il fulcro, l'attività di hip hop è in America. Quindi sarebbero un sacco di opportunità in più, tantissime conoscenze in più e soprattutto nessuno ti giudicherebbe per quello che fai. Ho scelto hip hop dopo aver provato tutti gli altri stritti di danza. Fin da piccola mi piaceva ballare. Ho iniziato pensando che la mia strada fosse il moderno e il classico, ma la mia delicatezza non era proprio delle più fini, delle più belle. Quindi ho deciso di provare hip hop. Ho conosciuto la mia insegnante che ha uno stile particolare rispetto al hip hop che si vede in giro. è molto contaminato con tutti gli altri stili di danza e è sempre in continua evoluzione. Ho iniziato a studiare anche classico, contemporaneo, anche se non mi ritengo ballerina di classico e contemporaneo. Grazie a tutti. 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 Anch'io ti ho sentita molto bene da qua. Ti faccio veramente i complimenti. Quanti anni hai? 20. 20? Poi qui le quattro borse di studio fino agli 80 anni? Penso che ci riuscirai, penso che ci riuscirai perché sei molto brava. Grazie mille. Allora, nell'aspetto tecnico veramente sopra sei proprio un fenomeno, dal bacino in su, dal bacino in su, proprio le braccia, proprio bellissimo, c'è un'energia forte. secondo me, secondo me dovresti lavorare un pochino in sulle stabilità, secondo me dovresti lavorare un pochino in più sui piedi e sulle stabilità. tanto la musica te lo dà, tanto la musica te lo dà, tu sei bravissima, poi a una regina giusta, sei una bellissima ragazza, per cui ti vedrò in tante gare, spero primo premio, complimenti. Sì, auguri, grazie. Insomma, è stata comunque positiva, un applauso alla nostra Vanessa, ti congedo, raggiungi i tuoi colleghi concorrenti, complimenti ancora. Siamo arrivati a un momento molto importante, la nostra giuria poco fa è uscita per deliberare, ma li vedo, stanno tornando, sono praticamente pronti e tra pochissimo scopriremo quali sono i due finalisti di questa puntata. Grazie, grazie, siamo arrivati a un momento catartico, questa parola che si usava, la giuria è davanti, seria, in piedi, avete preso una decisione? È stato difficile. Difficile, sedetevi, tanto accomodatevi, non mi resta che chiamare la mia assistente, fantastica, bella, eterea, sempre di poche parole, ma il suo dovere lo fa benissimo, Natascia, dove sei? Mettiamo un applauso a Natascia, che bella che sei Natascia. Eh sì, Natascia mi porterà questa busta, davvero hai sfoggiato in queste tre settimane che siamo stati insieme una serie di abiti, complimenti, Natascia. Mi mancherai. No, dillo, che cosa hai detto? Mi mancherai. Ma scusa, io non ci sono anche le prossime puntate, vabbè, insomma, questo, ah non c'è lei, vabbè, insomma, adesso vediamo con Franco, non si capisce. Per una seconda. Un po' di serietà perché il momento è importante. Vi ricordo, amici da casa, che questi sono i due finalisti che hanno scelto i nostri giurati. Quindi li chiameremo in un ordine casuale, non c'è nessun tipo di preferenza. Tra questi due, uno solo sarà il vincitore. Questo vincitore verrà decretato da chi? Dai loro colleghi, dagli altri ragazzi che invece non sono arrivati in finale. Tira fuori questa busta, Natascia. E allora, la prima finalista di questa puntata di Talent Show è Vanessa Gentile. Un applauso, mi raccomando. Raggiungici Vanessa. E poi... L'altro finalista è Steven Messi. Un applauso. Grazie, Natascia, vai pure. Vanessa, vieni qua. Steven, raggiungimi da questa parte. Uè, pubblico, voglio sentirvi. E' più forte questo applauso per i nostri due finalisti. Allora ragazzi, come va? Siete soddisfatti? Che mi dici Vanessa? Sì, sì, sono soddisfatti. Ti è passata un po' la fame adesso? No, la fame no, il fiatone sì. Il fiatone sì. Steven, vuoi dire qualcosa? Grazie, grazie. E intanto grazie. C'è ancora un po' di attesa di trepidazione. Intanto un applauso per gli altri ragazzi che non sono arrivati in finale ma sono stati davvero bravi, bravissimi. Loro sanno già tutto ormai perché ci seguono attentamente. Che cosa hanno fatto? Hanno preso le lavagnette e hanno scritto, secondo loro, qual era il collega che si è dimostrato più pronto, più preparato in questa nostra puntata di Talent Show. Andrò a chiamarli uno per uno e vedremo che giudizio avranno espresso. Quindi, Ilaria, per chi hai votato? Per Steven! Facciamo un applauso a Steven. Pietro, ti vedo concentrato, per chi hai votato? Steven, yeah! Addirittura, simpatico il nostro amico Pietro. Anna, per chi hai votato? Per Vanessa, ok. E allora potrebbe esserci un exequo. Tutto dipende dalla nostra Elena. Per chi hai votato? Vanessa! E allora, clamoroso, non mi era ancora successo. Un applauso pubblico, c'è un exequo. Siete entrambi i finalisti, quindi sulle mani tutte e due. Le mani! Voglio la musica. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi, abbiamo vinto! E allora, io vi do appuntamento a che cosa? Alle semifinali. Chiedo alla giuria, ci sarò anch'io? Pubblico, mi volete le semifinali? Ragazzi, mi volete anche a me? Sono confermato anch'io? Che bello, sono contento, posso dirlo. Devo ringraziare tutti, sono state tre puntate meravigliose. Vi chiedo un applauso per tutto lo staff che è stato qui con noi a registrare in queste tre puntate, insomma, a creare il programma. Pino Calla, il nostro dottore Marco Elia, le truccatrici e tutti quelli che si sono messi in discussione. Ovviamente la New Faces e un saluto grandissimo va ai nostri giurati. Un applauso per Elisabetta Gigliani, Dima Venturi, Franco Battaglia e Radis Posende Roberto. E l'ho imparato questo nome! Un saluto da Rudy Smaila, ci vediamo alle semifinali e andiamo verso la vittoria. Verso la vittoria. Talent Show, ciao! Grazie a tutti!